Caffi del tesoro di Federica Pia, lei è Federica, la saluta Fede e questi sono dei mini toy nani, ve li avevo promessi quindi più che fare delle foto, io preferisco i video perché uno li vede per quanto sono piccoli, questi hanno la sverminazione e i batatoni a breve avranno anche il vaccino sono giocosi, sono carini, sono belli i giocarelloni sono veramente coccoloni, li ho tolti dalla mamma qui parliamo di mini toy ragazzi nani non sono quindi nani italiani, un nano spagnolo un nano che ha le orecchine piccole che arrivano da adulto 2 cm stanno sempre su, ve lo dico perché alcuni dopo non li conoscono il sesso ancora non ci ho guardato bene, sono veramente piccini questo ha l'occhio blu, guardate che coniglietto marrone, split con l'occhio blu ed è veramente fantastico questo è il pelo leggermente un po' più lungo si eh Fede, prendilo su Fede siamo dei cricetti siamo un cricettini da grandi quanto arrivo? non arrivano ragazzi che mi conoscono, lo sa, scusate se vi annoio però c'è anche chi vede per la prima volta i miei video arrivano a 700 bar a 900 grammi quelli che ho avuto di più grandi sono arrivati a 900 grammi poi le mie parole sono verificabili, contattate tutte le persone che hanno preso i coniglietti da me che sono sui miei social e ve lo possono dire questo è il pelo leggermente più lungo questa qui che dovrebbe essere, dovrebbero essere due femminucce adesso ci controlliamo meglio perché veramente stiamo parlando di sono davvero piccoli sì, è vero Fede? sono proprio piccoli mi fai vedere quella coniglietta che hai lì guarda, guardatela sono veramente intelligenti e buoni li mettiamo nelle tue ciabatte si perdono in questi caglioni questi sono due fratellini di una mamma hanno gli occhi azzurri lei ha gli occhi azzurri o l'altra amore? dovrebbe essere marroncino, guardaci tu questo è marrone marroncino e questo qui invece è azzurro, l'occhietto vabbè, noi adesso ci giochiamo vi faccio vedere intanto il video andiamo a prendere una pallina che gli piace adesso te la porta mamma e così giochiamo un po' con loro anche perché noi li lasciamo spesso liberi e ce li godiamo un po' eh Fede? cosa dici? guarda il video che mamma ti sta facendo il video te li vuoi godere un po' se no già mia figlia è diventata brava scusate la parentesi perché riesce a dar via i coniglietti e non si lamenta perché sa che non si possono tenere tutti è vero Federica? lo sa, ha nove anni ed è consapevole basta che vanno a stare? bene bene quindi bene cosa vuol dire? che vanno da famiglie famiglie che gli vogliono bene non sempre in gabbia è vero? guarda come sono carini va bene non sempre in gabbia e soprattutto che ci sia dell'affetto quindi che sono persone che amano gli animali persone che amano veramente gli animali e e che gli danno tanto amore e gli danno amore questo vedete i bambini sono le cose fondamentali l'amore ragazzi l'amore e le attenzioni un coniglietto non mi stancherò mai di dire non fa odore non fa cattivo odore anzi profuma sempre è vero? hanno sempre da talco non lo so anche parliamo non solo di cuccioli parliamo anche di quelli grandi e e sono veramente coccoloni va bene li lasciamo andare un po' adesso Federica sembrano dei crocettini sì adesso crescono un pochino ancora questi ragazzi questo mi dà i bacini e questi qui ricordatevi voi li vedete microscopici piccolini ma sono conigli che hanno 65 giorni non sono cuccioli di di dieci giorni perché a volte vi fanno vedere dei cuccioli mi dà i bacini amore mi fanno vedere dei cuccioli piccolissimi non sono cuccioli piccolissimi sono cuccioli che hanno magari cioè scusi scusate mi sono sbagliato non sono cuccioli piccoli ma deve piovere Federica mi sta impappinando non sono cuccioli che hanno 60 giorni ma sono cuccioli che hanno 15 giorni invece questi piccolini qua hanno scherziamo piccolini ma hanno 60 giorni e quindi li lasciamo un po' e poi fai vedere gli altri Minitoi lo fai tu eh lo fai te che sei bambina sei più brava di me io largo ai giovani è vero o no? sempre sempre io sono per i giovani sempre ragazzi li mettiamo al caldo escono beh certo loro devono muoversi liberamente no sentite il nostro cane non so se nel video si sente si sente Fede? ulula le campane ulula quando suona le campane ma forse l'ho fatto sentire i nostri amici quando il nostro cane che è un hamstaff che adora i coniglietti sente le campane che abbiamo anche in vicino questa è l'altra cucciolata allora questa è Federica sono gli altri tre bimbi di un'altra femminuccia di un'altra mamma sempre Minitoi sono bianchi questo è l'occhio azzurro bianchi tutti tre guardate con le orecchine beggioline eccolo guarda questo è fantastico no guardateli sono veri io mi spattacolo come faccio come faccio eh cos'è che vuoi un bacino microscopici 60 giorni 60 giorni allora lasciali che girano lasciali possono esplorare dopo li mettiamo da mami che finché prendili dai finché non vanno finché finché Federica non vanno non vanno nelle famiglie nuove noi li teniamo sempre con la mamma perché la mamma gli star con la mamma eh star con la mamma gli fa benissimo è vero andati guarda anche te guarda vedi sono coniglieti adorabili veramente sono questo qua vieni qua questo è un po' è un po' ah è un po' ispritto guarda come salta aspetta uno due questo lo chiamo spider guardate qua l'ho preso fuori dalla mamma spider questo è spider spider lui è spider non so se è femmino maschieto ha gli occhi azzurri anche lui o lei è spider ha tanta grinta questo tanta grinta ci manca un'altra femminuccia dov'è fede? no no hai perso un coniglietto? no me lo fai vedere l'altro? non lo so c'è uno qui ma non so l'altro ragazzi allora i cucciolini sono qua si cedono come Federica lo sai? con libretto sanitario sverminazione vaccinazione tutto tutto e sono socializzati abituati alla famiglia perché vivono con noi non sono mai in gabbia ogni tanto ma non sempre in gabbia e niente una telefonata e noi ve le consegniamo in tutti comunque con le staffette omologate usl naturalmente non con persone improvvisate quindi quando volete mi chiamate per info sono già abituati si iniziano ad ecco adesso abituare alla lettiera con una per legge in Italia 60 giorni e niente tutto qua salutiamo tutti seguiteci sui nostri social youtube bimbi gamers ciao ciao ragazzi e sempre cuccioli da una famiglia per famiglia noi ci teniamo dire questo perché è vero ciao ragazzi ciao ciao